Di fronte a un'Europa sconvolta dalla guerra, nessun equivoco, nessuna incertezza è possibile. La Federazione Russa, con l'atroce invasione dell'Ucraina, ha scelto di collocarsi fuori dalle regole a cui aveva liberamente aderito, contribuendo ad applicarle. La deliberazione di questa Assemblea parlamentare, del Consiglio d'Europa, di prendere atto della rottura intervenuta, è coerente con i valori alla base dello Statuto dell'Organizzazione, che indica la strada di una Unione più stretta delle aspirazioni comuni dei popoli europei. La responsabilità della inevitabile sanzione adottata ricade interamente sul Governo della Federazione Russa. Desidio raggiungere, non sul popolo russo, la cui cultura fa parte del patrimonio europeo e che si cerca colpevolmente di tenere all'oscuro di quanto realmente avviene in Ucraina. Non si può arretrare dalla trincea della difesa dei diritti umani e dei popoli. Si tratta di principi che hanno saputo incarnarsi nella storia della seconda metà del Novecento e a maggior ragione devono sapersi consolidare oggi. La ferma e attiva solidarietà nei confronti del popolo ucraino e l'appello al Governo della Federazione Russa perché sappia fermarsi, ritirare le proprie truppe, contribuire alla ricostruzione di un Paese, di una terra che ha devastato, è conseguenza di queste semplici considerazioni.